Un'occhiata nel regno di quella mostruosità del mondo vegetale che sono le piante dette carnivore, le quali a mezzo di aculei mobili e di organi imbischiatori catturano gli insetti imprudenti e quindi li digeriscono con un succo che secernono da speciali ghiandole, avente le proprietà di quello gastrico degli animali. Ecco la più piccola di queste piante messa a raffronto con un fiammifero, la più attiva è la venusa americana le cui foglie imprigionano gli insetti chiudendosi e che se somigliano alle conchiglie che portano lo stesso nome hanno pure l'aspetto feroce di una dentiera rispondente al carattere di queste piante.